La polizia britannica interrogerà l'attrice americana Lindsay Lohan sulla scomparsa di una parur da quasi 300.000 euro, 250.000 sterline, durante un servizio fotografico per la rivista di moda Elle. Un collier di diamanti e una coppia di orecchini coordinati indossati dalla Batgirl 22N, scrive il tabloid The Sun, sono infatti scomparsi dopo il servizio di sabato 6 giugno ai Big Sky Studios di Londra. I poliziotti sono stati avvertiti due giorni dopo il furto. Anche una decina di persone dello staff verrà probabilmente interrogata, sembra che i capi di Dior che hanno creato e prestato il gioiello per le foto di Lindsay siano furiosi. La star, che nel frattempo sembra essere di nuovo insieme alla compagna DJ Sam Ronson, è tornata a Los Angeles subito dopo il servizio. La rivista di moda ha sottolineato in un comunicato di non avere alcun motivo di credere che la Lohan sia legata al furto, per ora l'interessata non ha commentato. La rivista di moda ha sottolineato in un gruppo, per ora l'interessata non ha pensato.